ciao ragazzi oggi è il 3 giugno 2022 vi dice qualcosa la data 3 giugno ci arriveremo ve ne parlerò in questo video prima di tutto ci tengo a dire che nella giornata di ieri si abbiamo raccontato come Pogba sia ad un passo dalla Juventus ce l'ha comunicato Romeo Agresti e siamo contentissimi di questa cosa oggi Romeo ha pubblicato un video aggiunto un piccolo particolare nella giornata di ieri Guardiola e il Manchester City hanno provato a capire le possibilità di trattare con Pogba per arrivare a tesserare a parametro zero pole ma il polpo non ha intenzione di fare uno sgarbo al Manchester passando alla sponda ai rivali ai cugini e ha in testa la Juventus quindi attendiamo con molta più fiducia rispetto a quella che avevo nei giorni precedenti dove si si continuava a vociforare di Pogba 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 ma di certezze di giornisti che si sbilanciavano effettivamente ce n'erano pochi negli ultimi due tre giorni invece ho visto tanti iniziare veramente a dire è fatta quindi rimaniamo con ansia io sono in trepida attesa non vedo l'ora di sapere qualcosa di più dicevo 3 giugno 2022 che cosa vi ricorda se stiamo parlando di Cardiff sono cinque anni oggi l'ultima finale di Champions League disputata dalla Juventus cinque anni fa nel frattempo sono successe cose assurde come Ronaldo che poi effettivamente arriva alla Juve come altri allenatori oltre a Massimiliano Allegri come Sarri e Pirlo per poi tornare a Massimiliano Allegri la stagione zero titoli la stagione senza Scudetto il nono Scudetto l'ottavo Scudetto il ritorno di Buffon l'addio di Buffon ragazzi è successa qualsiasi cosa in soli cinque anni senza dimenticare ovviamente lato extra calcio anche se si intersega perfettamente il covid quello che abbiamo patito con la pandemia quindi mi sembra strano pensare che siano cinque anni oggi eppure effettivamente è così wow sono cambiato un sacco di cose ed è cambiata tanto anche la Juve perché vado a memoria Buffon importa non c'è più Barzagli Bonucci Chiellini c'è solo Bonucci Chiellini ci ha appena salutato Alessandro a sinistra sì c'è ancora Daniel Vessadestra non c'è più a centrocampo Chedira e Matuidi anzi Chedira e Pjanic non ci sono più Dybala ci saluterà Iguain e Mandzukic gol e assist non ci sono più rimangono Bonucci e Alessandro e Quadrado l'ha subentrato se vogliamo è completamente persa quella Juventus lì non è rimasto praticamente nulla in cinque anni che sono un breve lasso di tempo per quanto riguarda l'essere umano ma un grande lasso di tempo per quanto riguarda il calcio io sono sempre dell'idea che se i mondiali li fanno ogni quattro anni c'è un motivo questo cambio generazionale che permetta l'edizione di essere quasi sempre differente con alcuni campioni che rimangono immortali e tanti nuovi prospetti che arrivano da questa cosa infatti pensare che sono praticamente cinque anni che abbiamo venduto Pogba dato che Iguain è arrivato proprio in quella sessione di mercato non avevamo un centrocampista la Juventus come Pogba dall'accessione di Pogba e questo è sì una cosa positiva per la Juve che torna ad avere un centrocampista di livello assoluto davvero come il francese ma dall'altra parte anche una semi sconfitta per la Juve perché nel frattempo in cinque sei anni da quel momento lì non siamo mai riusciti a trovare un altro giocatore in grado di far respirare davvero il nostro centrocampo di avere personalità e di prenderselo in mano possiamo parlare di Piani c'è Chiedira appunto di Matuidi che forse sono stati i tre centrocampisti con uno status maggiore dall'accessione del francese anzi Chiedira addirittura ci ha giocato insieme a Pogba però stiamo parlando comunque di paste differenti per quanto mi riguarda la personalità di Pogba è qualcosa di fuori dal comune e quindi sono contento sì di riabbracciarlo eventualmente ma dall'altra parte mi sembra anche una sconfitta e rimanendo sempre sul binario Cardiff pensiamo anche all'ultima partita in maglia Juve per Dani Alves perché dopo quella partita Dani Alves semplicemente è stato ceduto da Juventus al PSG per una serie di motivazioni che sappiamo bene non si trovava più bene addirittura ha pensato ha detto la Juventus mi aveva promesso un cambio di mentalità che poi non c'è stato quindi insomma Dani Alves non si è trovato bene la Juventus è andata ad acquistare De Sciglio nell'accessione di Bonucci al Milan anche questo è un'altra delle cose successe dopo Cardiff che possiamo mettere nel pentolone poi Bonucci addirittura torna alla Juve e De Sciglio rimane salvo poi andare via l'anno scorso compito rientrare quest'anno sembrava essere scontato un'accessione a parametro zero di De Sciglio invece no rinnovo al ribasso De Sciglio ha effettivamente praticamente rinnovato il contratto stiamo soltanto aspettando l'ufficialità e siamo passati da Dani Alves a De Sciglio io tuttora fatico a ragionare su un upgrade su un downgrade più grande di questo non me ne vengono in mente nella storia del calcio e lo dice uno che capisce comprende il rinnovo di De Sciglio anche l'altro giorno quando ho parlato della difesa vi ho fatto presente che secondo me il rischio poi era elevato non rinnovando De Sciglio però dall'altra parte vi dico ci servono altri giocatori De Sciglio è perfetto per essere una riserva ma De Sciglio quest'anno non è stata una riserva De Sciglio quest'anno è stato un semi titolare se De Sciglio ti fa le 10-15 partite all'anno non c'è problema se De Sciglio quest'anno ha fatto una trentina di partite ragazzi ha fatto il record assoluto da quando gioca la Juve quest'anno è un dato di fatto basta guardare le statistiche le presenze che ha fatto negli altri anni quest'anno è l'anno che ha giocato di più in assoluto quindi serve fare qualcosa di più sugli esterni ed è questo che mi fa arrabbiare quando ieri sera ero a cena fuori mi ero fatto il 2 giugno al mare soltanto il pomeriggio tra l'altro vado a cena fuori apro twitter e leggo il twitter di Giovanni Albanese che dice l'udinese si terrà a Udoji non è interessata a cedere Udoji mi è corollato il mondo addosso perché? perché significa che la Juventus non andrà ad acquistare quel profilo che per quanto mi riguarda era davvero perfetto in questo momento da andare a prendere in un ruolo che ti serve sostituire e modificare proprio per quello che dicevamo prima Alexandro è ancora lì e c'è da Cardiff e c'è da prima di Cardiff e la Juve non ha mai toccato quel reparto lì non è mai andata a inserirsi a mettere le mani in quella porzione di campo ed è un giocatore oggi Alexandro lo sappiamo tutti fuori dal progetto tecnico della Juventus sia sul campo sia a livello economico perché guadagna una cifra troppo alta i famosi rinnovi di contratto pre-covid quelli che tuttora ci stanno facendo male quei giocatori che devono essere tolti dalla Juventus perché la Juventus non ha più quell'idea societaria ha cambiato quel modo di vivere il calcio e infatti ora i contratti a dei giocatori come Pogba e Di Maria che sono assoluti top player vengono fatti sì a una cifra molto alta circa i 6 milioni che percepisce Alexandro ma di 2-3 anni addirittura Di Maria ne vorrebbe uno e qua si sta lottando perché a Juventus ne vorrebbe due però capite che sono brevi e cioè arrivo va bene ti fai un anno, ti fai due anni poi magari nel terzo ragionerà sull'accessione ma Alexandro non se ne vuole andare e quindi verosimilmente rimarrà lì e verosimilmente verrà ceduto Pellegrini e secondo me questa è una vera e propria maledizione per la Juve sotto il punto di vista del terzino sinistro dell'esterno sinistro perché noi continuiamo, siamo sempre lì continuiamo ad avere sempre Alexandro e non riusciamo a togliercelo sarà l'ultima stagione a meno che poi non venga optato per un nuovo contratto che io in questo momento considero impossibile ma per me era impossibile anche quello di De Sciglio ed eccoci qua che per me non è una cosa assolutamente negativa ma diventa negativa quando De Sciglio fa tutte queste partite da titolare perché significa che la Juve non è costruita non è strutturata bene perché non hai dei terzini sinistri o destri perché De Sciglio ti può giocare sotto le due fasce in grado di darti una sorta di continuità tattica o una sorta di continuità nella titolarità e sono ancora più sorpreso di leggere che Udoge rimarrà l'Udinese ma l'Udinese è disposta a cedere Molina e la Juventus ha chiesto informazioni su Molina però gioca a destra allora noi a sinistra cosa facciamo? Alexandro De Sciglio e a destra cosa facciamo? Quadrado, Danilo, Molina e comunque De Sciglio io sono d'accordo che a destra l'ho detto anche l'altro giorno ci sia un po' di problemi sotto il punto di vista numerico perché secondo me Danilo e Quadrado non ti danno garanzie di continuità fisica è ovvio che quindi avendo uno come De Sciglio in più che può aggirare nelle rotazioni che però è il terzo qualcosa ci sta ma la precedenza è a sinistra io non posso credere che la Juventus non vada a intervenire a sinistra quest'anno come non posso credere che la Juventus possa interessarsi magari oggi che Udoge è stato blindato all'Udinese a un profilo come Emerson Palmieri no di Emerson Palmieri quanti anni è che parliamo? due, tre e comunque il calcio continua ad andare avanti e abbiamo detto prima cicli di quattro anni perché poi cambia tutto la continuità cambia all'interno di questi quattro anni quindi sono un po' perplesso devo dire la verità questa notizia di Udoge che rimane a Udine un pochino mi fa arrabbiare perché mi sembrava davvero il profilo giusto per la Juventus un giocatore in rampa di lancio ancora molto giovane con un costo non eccessivamente alto che conosce il campionato italiano un giocatore italiano che potrebbe far parte della rosa della spina dorsale dell'Italia del futuro e invece no rimane lì noi rimaniamo con Alexandro e guardiamo sulla fascia destra dove abbiamo comunque già tre giocatori che in quella posizione ci possono giocare sono un po' confuso devo dire la verità non capisco questa cosa magari è solo la classica chiacchiera di mercato o magari non è nemmeno confermato al 100% che Udoge rimarrà a Udine magari davvero Juve riuscirà a acquistare Udoge però ad oggi questa è la notizia che ci passa che ci viene data in pasto e allora la rivolgo a voi perché magari non la sto capendo io che senso ha immaginarsi una Juve con Alexandro e De Sciglio a sinistra perché Pellegrini verosimilmente verrà ceduto dato che l'ha chiesto lui con a destra De Sciglio Quadrado Danilo Molina ha senso spendere una trentina di milioni perché questa è la valutazione che fa l'Udinese del suo esterno per un terzino destro che è assolutamente secondo me un giocatore che ci serve è interessantissimo Molina non metto in dubbio questo anzi mi piace molto però io credo che la priorità sia a sinistra quindi o la Juve fa un terzino a destra come Molina e un terzino a sinistra spero diverso non riesco a capirlo perché se devo ragionare sulle priorità la priorità è sull'altra fascia vediamo che cosa succede fatemi sapere anche un po' voi la vostra opinione io non so come leggerla questa cosa